Eccoci allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo incontro che è anche l'ultimo del 2019 che è dedicato appunto a un tema su cui abbiamo avuto diverse sollecitazioni negli anni scorsi, cioè quello appunto del lessico che è il tema generale del corso di quest'anno, lavorare con le parole, ma più specificamente del vocabolario e dell'addestramento alla sua consultazione in classe e a casa, dunque in modo non solo in gruppo ma anche in modo autonomo. Si tratta di un argomento di grande importanza, soprattutto direi storica, nel senso che nella storia delle lingue europee e in particolare nella storia della nostra lingua, dell'italiano, il vocabolario ha avuto un ruolo senza dubbio centrale. Non sarà male dunque iniziare con un breve excursus che certo non copre la storia della lessicografia italiana ed europea, ci vorrebbe un corso ovviamente, ma appunto vorrebbe fare un po' il punto su perché il vocabolario è stato così importante e perché è stato ritenuto così importante anche nell'educazione linguistica, dunque a scuola. Qui vi ho riportato un brano molto noto della relazione che fu commissionata a Manzoni, e ad altri esperti nel 1868, dunque a Manzoni ultraottantenne, senatore del neonato Regno d'Italia, commissionata, gli dicevo, dal ministro Broglio e il cui argomento doveva essere dell'unità della lingua e dei mezzi di diffonderla. dunque appunto con l'unità si poneva in maniera molto urgente il problema appunto dell'unificazione linguistica della nazione. E a Manzoni, che già in vita era considerato un'indiscussa autorità non solo in campo letterario, ma anche appunto nel campo di quella che noi oggi chiameremmo la politica linguistica e scolastica, a Manzoni appunto fu chiesto dal ministro Emilio Broglio di redigere una relazione su questo argomento. Nella relazione Manzoni dà grandissima importanza allo strumento del vocabolario. Nella parte centrale di questa relazione si legge che uno dei, uno poi dei mezzi più efficaci ed un effetto più generale, particolarmente nelle nostre circostanze per propagare una lingua, è come tutti sanno un vocabolario. Ecco, come tutti sanno, cioè non è un'opinione isolata di Manzoni, ma Manzoni ritiene appunto che questo sia un fatto pressoché ovvio. Per insegnare, addestrare all'uso di una lingua è necessario l'uso del vocabolario. Perché Manzoni ne era così convinto? Ma conosciamo bene le vicende biografiche di Manzoni, i travagli molteplici nella stesura tormentata del romanzo dei Promessi Sposi. Io qui vi ho riportato quello che era il vocabolario di Manzoni e l'uso che Manzoni stesso ne faceva. Questo è il vocabolario della Crusca, nella sua quarta impressione rivista da Antonio Cesari, la cosiddetta Crusca veronese, data al primo decennio dell'Ottocento. E questa era la copia personale conservata da Manzoni, che Manzoni aveva letteralmente riempito di postille, di scritte, di parole, di annotazioni. Annotazioni spesso anche molto polemiche nei confronti di un vocabolario, quello della Crusca, che era un vocabolario arcaizzante, esclusivamente basato appunto sull'uso del fiorentino, ma soprattutto del fiorentino trecentesco, e quindi che andava contro l'ideale di lingua viva e vera appunto che era di Manzoni. La cosa interessante è che il caso di Manzoni è certamente notevole, certamente emblematico, ma non è isolato. Cioè per molto tempo in un paese come l'Italia, dove l'unificazione linguistica è venuta prima dell'unità nazionale, e dove il modello di lingua era appunto, come si direbbe oggi in linguistica, di atopicamente marcato, cioè era individuabile in un singolo punto geografico, sia la città di Firenze, per molto tempo il vocabolario è stato l'unico strumento che gli scrittori, ma le persone diciamo istruite, dotte in genere, hanno potuto usare per attingere al lessico della lingua comune. Dunque il vocabolario, se vogliamo, fungeva anche da grammatica, era quasi un libro di lettura, cioè l'italiano comune lo si poteva imparare, se non si era fiorentini o toscani, soltanto attraverso il vocabolario. E di qui, diciamo, la centralità del vocabolario nella relazione di Manzoni, dell'unità della lingua e dei mezzi per diffonderla. Non stupisce allora che nei programmi scolastici, fin dai primi programmi scolastici, io qui sono riuscito a trovare le prime occorrenze della parola di vocabolario soltanto nei programmi orestano, che comunque sono già molto addietro, siamo all'inizio del Novecento, 1905, ma è probabile che un qualche accenno al vocabolario andandosi a leggere bene le leggi e i programmi ci fosse anche prima, se non nella legge Casati, nella legge Coppino, comunque, insomma, nei primi provvedimenti legislativi che riguardano la scuola. Bene, nei programmi orestano del 1905, a un certo punto, per il programma della classe quarta, quarta elementare, c'è tutta la parte appunto relativa alla lingua italiana, dove c'è la lettura, la dettatura, la grammatica, e poi a un certo punto, ben chiaro, è scritto uso del vocabolario. Eccolo. E possiamo dire che questa centralità, questa attenzione che i programmi scolastici danno al vocabolario e che davano, diciamo, ai primi del Novecento, si è mantenuta ininterrotta fino alle più recenti indicazioni nazionali del 2012. Insomma, non c'è soluzione di continuità tra i programmi primo-novecenteschi e le indicazioni nazionali di un secolo, più di un secolo dopo. Tra gli obiettivi di apprendimento che si suppongono al termine della classe terza, della secondaria di primo grado, c'è anche l'acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo, cioè, possiamo dire con altre parole, di competenza passiva e attiva, cioè lessico che deve essere in buona parte conosciuto e in una minima parte di questa, diciamo, anche usato attivamente. Bene. Chiaramente è scritto che si richiede agli studenti, si suppone che gli studenti alla fine della secondaria di primo grado siano in grado di utilizzare dizionari di vario tipo e anche di rintracciare all'interno di una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. Dunque, un uso globale del dizionario, intanto non soltanto di un dizionario, cioè del vocabolario a cui pensiamo subito, il cosiddetto vocabolario generale dell'uso, lo zingarelli, il devoto Oli, non solo quello, ma dizionari di vario tipo. Dunque, a scuola si suppone che l'insegnante dovrebbe presentare più tipi di vocabolari e poi c'è questa espressione rintracciare informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici che certamente fa pensare anzitutto al lessico, stiamo parlando di vocabolario e dunque probabilmente il dubbio riguarderà una parola, ma non esclude il fatto che il vocabolario possa essere usato anche come strumento per potenziare quantomeno le conoscenze grammaticali. Dunque, un ruolo, direi, centrale tanto quanto lo era nei programmi manzoniani, l'influenza manzoniana dei primi del Novecento. Qual è però il problema? C'è un però. E cioè il fatto che quella centralità che i programmi tuttora, i programmi scolastici, le indicazioni tuttora riconoscono al vocabolario, non c'è più appena si esce dai programmi scolastici. Cioè il vocabolario non è più quello che era ai tempi di Manzoni, non è più quello che era ai tempi dei programmi scolastici di primo Novecento. Qui vi ho riportato così un meme che ho trovato in rete, appunto così in inglese, allora un amico che dice all'altro e dice ehi fratello, mi sento proprio inutile e l'altro gli risponde ehi frate, fratello, diciamo, ma pensa allora ai dizionari nell'epoca di Google, no? Come per dire se ti senti inutile pensa allora quanto può essere inutile un vocabolario adesso che c'è internet, che c'è Google. e sempre cercando in rete che insomma è una risorsa veramente infinita di suggerimenti anche quando uno magari non aveva intenzione di trovare stava cercando qualcos'altro ho trovato questa installazione, questa sorta di così opera d'arte il vocabolario impiccato di un artista appunto che si chiama Benito Ligotti che diciamo rende in maniera direi crudele quasi la crisi che il vocabolario quantomeno il vocabolario cartaceo monovolume generale dell'uso così come lo conosciamo e così come siamo abituati a concepirlo noi noi tutti cioè direi fino almeno alla mia generazione è stato è stato così è qualcosa che che sta finendo forse che è già che è già finito io non so se ancora oggi quando si fa il il tema insomma si scrive a scuola i ragazzi portino con loro il vocabolario è una cosa ecco ecco ok lo dico ad alta voce per le persone degli altri poli che non ci sentono si dice appunto poi potremmo fare anche un sondaggio se volete nella fase così di discussione dopo la mia chiacchierata comunque si ci sono alcuni dizionari magari che sono in classe e che vengono consultati alla bisogna però il rito anche forse che avvertivamo un po' inutile perché poi se uno non aveva niente da dire è inutile cercare nel vocabolario le parole giuste e tanto non sapeva bene che cosa scrivere perché magari non conosceva bene l'argomento che era stato proposto non aveva idee ma comunque di portare ogni volta il vocabolario quando c'era il compito in classe è sempre meno diffuso perché effettivamente non che il vocabolario serva sempre meno ma si capisce sempre di meno a che cosa dovrebbe servire ecco forse è questa la giusta formulazione e è un problema questo che non si avverte soltanto nel mondo della scuola ma che si sono posti anche gli accademici i linguisti sebbene appunto si tratti di un linguista Luca Serianni che da sempre ha un occhio di riguardo nei confronti della scuola Luca Serianni nel 2016 in un intervento alla Crusca a Firenze dunque nel regno della lessicografia italiana e anche europea se consideriamo che il vocabolario della Crusca nella sua prima impressione del 1612 è stato il primo dizionario storico moderno di una lingua europea e ha fatto da modello poi per il francese per lo spagnolo l'inglese bene proprio in quella sede ha avuto il coraggio di cercare di rispondere alla domanda ha un futuro il dizionario dell'uso e il coraggio è stato doppio perché non solo si è posto la domanda ma si è dato anche una risposta negativa vediamo come risponde a differenza di come avrei risposto solo poco tempo fa sono ormai rassegnato a rispondere di no almeno pensando al dizionario al quale siamo abituati il dizionario generalista fatto di parole del lessico di base termini settoriali sufficientemente diffusi o rappresentativi arcaismi anche rari purché usati da qualche classico dei primi secoli oltre a una manciata di neologismi tratti dall'attualità e offerti in pasto alle campagne promozionali e alle recensioni giornalistiche in riferimento qui ovviamente a tutte quelle riedizioni dello Zingarelli del devoto Oli del disc eccetera dove si dice come prima cosa 20 100 parole nuove abbiamo messo anche selfie adesso selfie è datato già abbiamo messo non so salvinizzare sono ovviamente entrate infimere nel senso che poi diciamo dopo 2-3 anni vengono tolte e rimpiazzate da altri neologismi che spesso spesso hanno vita molto molto breve continua Serianni come credo di aver argomentato nelle pagine che precedono se vogliamo davvero informarci su un tecnicismo estraneo alla nostra formazione professionale il dizionario non ci basta perché quel tecnicismo può non esserci o essere definito in modo tecnicamente impeccabile ma scarsamente perspicuo per il profano e comunque la concorrenza della rete con le sue risorse multimediali è micidiale no? se io non so che cos'è una pialla ammesso che non so sto leggendo Pinocchi magari a un certo punto arriva la pialla di Geppetto ma che cos'è la pialla nella società odierna è legittimo porsi il problema la domanda se vado a leggere la definizione del vocabolario beh sì qualcosa capisco ma è chiaro che se vado su internet su google e vedo subito l'immagine di una pialla e magari vedo un video su youtube che mi fa vedere esattamente come si usa la pialla capisco subito molto meglio e adesso qui c'è un tono un po' rassegnato di seri anni però insomma non tutto quel che è nuovo è da buttare nel senso che per esperienza personale tante volte effettivamente con un'immagine con un video si capisce molto meglio quello che il significato di una parola piuttosto che con una definizione il problema qual è? il problema è poi rinunciare completamente alla definizione non saper più definire questo sì che diventa un problema però finché se si tratta di risorse in più ovviamente non bisogna buttarle al mare ed effettivamente quello che dice seri anni qua appunto il tono sembra pessimistico in realtà è puramente un bagno di realismo quello che dice poi seri anni è che forse bisognerebbe trasformare il dizionario tradizionale dell'uso in uno strumento nuovo più moderno che sia a metà tra il vocabolario e l'enciclopedia l'enciclopedia ovviamente l'enciclopedia per ragazzi come per esempio se conoscete l'enciclopedia per ragazzi della Treccani che è anche online dunque spiegato tutto in maniera senza termini difficili tecnici insomma il più possibile in maniera piana e soprattutto in maniera discorsiva cioè far sì che il vocabolario diventi sempre più uno strumento di lettura in questo il vocabolario diventerebbe uno strumento nuovo però allo stesso tempo recupererebbe alcune cose dell'uso quantomeno dei vocabolari che si faceva come abbiamo visto nell'ottocento quando i vocabolari venivano effettivamente letti non solo consultati e Serianni fa un esempio qui di voce un aggettivo che effettivamente non è certo del lessico fondamentale flebile ma che non è nemmeno una parola obsoleta o arcaica insomma è una parola che chi ha un discreto grado di istruzione deve essere in grado di conoscere anche se possibile di usare e vedete la struttura è molto diversa da quella del dizionario del vocabolario a cui siamo abituati è discorsiva l'aggettivo è tratto per viadotta dal latino flebilis che si continua in italiano anche nella forma popolare fievole e qua appunto abbiamo informazioni sulla grammatica l'aggettivo sull'etimologia su varianti arcaiche della forma però tutto messo all'interno di una frase presentata in maniera discorsiva flebilis aveva un trasparente collegamento col verbo flere piangere di cui il significato di degno di pianto di un flebile carmen parla o video nei tristia lamentando il suo esilio sul mar nero ma anche quello di che provoca lacrimazione in lucilio flebilis è attributo della cipolla in italiano l'aggettivo ha subito una serie di spostamenti semantici il riferimento al pianto è presente solo nella lingua letteraria del passato tasso parla ad esempio di flebilonde camore sdegno dai begli occhi stilla per indicare le lacrime l'idea dominante è ora legata al suono un suono debole esile fioco tipico di una voce lamentosa ed esteso al canto che esprime sentimenti tristi e dolorosi e c'è un'altra citazione questa volta da pulci la cetra accomodò col flebilcanto nell'italiano del ventesimo secolo flebile ha arricchito la sua gamma semantica quindi vedete c'è anche una distinzione insomma in due capoversi il primo chiaramente dedicato alla storia della parola quindi l'etimologia e poi gli usi che c'erano in latino e anche nell'italiano antico il secondo invece sull'uso diciamo contemporaneo nell'italiano del ventesimo secolo flebile ha arricchito la sua gamma semantica il valore primario è pur sempre quello acustico una voce flebile un lamento sempre più flebile ma l'aggettivo col valore di debole incerto appena accennato può indicare realtà che non si percepiscono con l'udito bensì con la vista ebbe un flebile sorriso palazzeschi un gesto che gli parve flebile rassegnato moravia vi di anche qualche luce flebile tremare dietro vetri di finestre lontane mannuzzo oppure non solo legata alla sfera sensoriale propriamente detta ci si può riferire a un evento fisico e di nuovo esempi tratti da scrittori contemporanei Domenico Rea Margaret Mazzantini ma anche a una valutazione astratta il rumoroso buon umore che lui si univa al sentimentalismo più flebile Tomasi di Lampedusa era appena il primo flebile annuncio dell'alba invernale Umberto Eco e senza rendermi conto di quanto fosse flebile la stima che godeva il nostro candidato Maria Bellonci è chiaro che una struttura del genere è più godibile più fruibile senz'altro è anche chiaro che uno strumento del genere sarebbe pensato io penso per i licei anzitutto e in particolare forse per ma sì il classico comunque quei licei dove si fa un livello sufficiente di latino per apprezzare le citazioni dai tristi a Diovidio o da Lucilio eccetera perché se no bisogna spiegare allora chi è Lucilio e probabilmente anche chi è Ovidio laddove non si faccia non si faccia latino e così non si dice nulla su tasso pulci si danno per scontati per presupposti quindi probabilmente appunto si rivolge a un liceale o comunque una persona mediamente istruita che appunto possa così ogni tanto per curiosità leggere una voce per conoscerne non solo il significato ma anche la storia quali sono state le sue evoluzioni semantiche come vedete un po' un misto di informazioni linguistico culturali storico culturali in forma di scheda non più di voce schematica come il dizionario è indubbio che uno strumento del genere sarebbe auspicabile non so se per sostituire completamente il vocabolario ma certamente per le lezioni in aula in classe fare diciamo partire da una riflessione così ampia su una singola parola certamente invoglierebbe magari i ragazzi a fare ricerche su altre su altre parole avendo a disposizione tutti questi dati però appunto presentati didatticamente questo strumento però al momento non c'è che io sappia insomma Seriani ha lanciato lì l'idea ma non pensa di redigerlo lui stesso finché non arriverà qualcosa di simile ci restano ci resta il buon vecchio vocabolario qui in un'altra prospettiva appunto ancora più se volete sadica del vocabolario impiccato però anche se esistesse diciamo quel nuovo vocabolario il nuovo strumento proposto da Seriani credo che comunque non potremmo fare a meno di dedicare una parte dell'insegnamento al buon vecchio vocabolario tradizionale e questo per almeno per una serie di motivi io ne ho individuati almeno cinque probabilmente ce ne sono di più il primo che forse è quello meno importante è proprio la sua funzione storica non solo perché si potrà dire appunto nella storia dell'italiano quanto il vocabolario è stato importante per l'unità linguistica appunto il primato che il vocabolario della Crusca ha avuto in Europa possiamo dire che gli italiani sono stati in qualche maniera gli inventori del vocabolario modernamente inteso ma anche per il fatto che se non nella propria casa quantomeno nella casa di qualche nonno di qualche zio oppure come dicevamo tra i banchi di scuola il vocabolario c'è e quindi diciamo tutti quanti ne hanno una qualche esperienza anche se poi magari non sono abituati a consultarlo e quindi finché c'è finché non scompare completamente non è come l'aratro o la macchina da scrivere forse dire a che cosa serve dire perché in ogni biblioteca il primo libro che c'è se si acquista un libro è il vocabolario è qualcosa è qualcosa di utile poi perché il riflettere sulle varie tipologie di dizionari ci fa riflettere anche sui vari livelli di analisi della lingua le diverse prospettive che informano di sé appunto la struttura dei dizionari il motivo per cui un dizionario storico è diverso da un dizionario dell'uso che è diverso da un dizionario etimologico da un dizionario di sinonimi eccetera fa sia anche che si capisca meglio come funziona la lingua stessa e da che prospettive può essere vista poi il dizionario comunque è uno strumento importante di riflessione sulla lingua e sulla grammatica in particolare intanto perché fa capire una cosa che non è tanto chiara ai ragazzi in genere agli allievi e cioè che la nozione di parola è tutt'altro che pacifica noi pensiamo di sapere che cos'è una parola ma in realtà diciamo i linguisti fanno ancora adesso fatica e discutono molto su che cosa si debba intendere per parola questo vale sia per quelle quegli insiemi di più parole grafiche che in realtà però si comportano dal punto di vista del significato e anche della sintassi come un'unica unità le cosiddette polirematiche o anche alcuni composti non univerbatiche dunque si scrivono separatamente ma che poi di fatto si comportano come una sola parola scuola guida funziona come una sola parola oppure testa a testa si sono tre parole ma dal punto di vista grafico ma sintatticamente si comportano come un'unica parola tant'è vero che io non posso dire posso dire che c'è stato un incredibile testa a testa un testa a testa incredibile ma non un testa incredibile a testa per dire non posso mettere in mezzo l'aggettivo ma vale anche per le parole più piccole le unità più piccole in che senso possiamo considerare l'articolo il una parola si scrive separatamente in italiano in altre lingue però no si scrive univerbato si scrive attaccato alla parola che segue o alla parola precedente molti di voi immagino avranno alunni rumeni romenofoni di origine rumene in classe e può essere interessante riflettere anche semplicemente su qual è la diversa percezione dell'articolo che ha un italiano e un rumeno con tutto che poi si tratta di due lingue romanze ma un conto è l'italiano che mette l'articolo come parola separata prima della parola un conto è il rumeno che ha l'articolo in clitico per cui invece di dire il fratello dice fratelle ed è tutto scritto attaccato per lui è quasi l'articolo è quasi più simile diciamo alla la desinenza o una desinenza diciamo di maschile articolato e quindi non pretendo che si facciano discussioni di questo tipo però anche nel nome dell'inclusione magari effettivamente far riflettere sullo statuto ambiguo dell'articolo dei pronomi atoni eccetera che si sono parole isolate quando le si scrive ma per esempio non hanno un proprio accento e dunque si appoggiano all'accento della parola che segue dal punto di vista della fonologia sono un'unica cosa con la parola che segue può essere utile e vedere come si comporta il vocabolario oppure le locuzioni come vengono trattate le locuzioni all'interno di un vocabolario e che cos'è una locuzione che cosa possiamo definire una locuzione che cosa è piuttosto quella che in linguistica si chiama una collocazione cioè una solidarietà fra due o più parole che tendono a occorrere insieme ma che non costituiscono un blocco unico onda anomala per esempio onda e anomala vanno spesso insieme ma non sono allo stesso livello di testa a testa oppure ovviamente attraverso le marche grammaticali riflettere sulle parti del discorso i tipi di verbi perché la prima cosa che ci dice il vocabolario quando lo andiamo a aprire per un verbo ci dice se il verbo è transitivo o intransitivo e quindi dipende ovviamente dalla classe in cui facciamo l'unità didattica sul vocabolario però insomma a un certo punto almeno in terza la differenza da transitivi e intransitivi dovrebbe essere conosciuta e le reggenze preposizionali e poi c'è un livello più generale ma forse più importante nella nostra società che è quello dell'addestramento al reperimento e alla valutazione critica delle informazioni quindi diciamo cercare di insegnare che quando si legge non si capisce qualche cosa bisogna informarsi bisogna arrivare a capire quello che si è letto e che quando si cerca un'informazione perché non capiamo quella parola è importante anche dove andiamo a cercare quell'informazione non soltanto cercarla tra questo sarebbe un insegnamento importante ovviamente poi il vocabolario non può che contribuire la consultazione l'uso del vocabolario all'arricchimento del lessico del lessico individuale mi sembra che insomma questi cinque motivi siano sufficienti per non depennare non barrare quell'ultimo punto degli obiettivi e tenerlo ancora diciamo stabile fra appunto gli obiettivi del fine della secondaria di primo grado anche se bisogna tener presente appunto che il vocabolario oggi però è uno strumento problematico uno strumento in divenire a uno statuto se vogliamo ambiguo bene pensiamo allora a progettare una lezione oppure un'unità didattica sull'uso del vocabolario secondo me non si può oggi come oggi non partire da una definizione di che cos'è il vocabolario una descrizione cioè non si può fare quello che forse si faceva ancora quando andavo a scuola io di dare per scontato che comunque tutti più o meno sappiano che cos'è il vocabolario perché gli è stato detto dai propri genitori perché c'è uno a casa in famiglia forse questa sia una bella differenza rispetto rispetto a soltanto qualche qualche decennio fa che cos'è in generale il dizionario magari lo si sa però come è strutturato questo penso penso di no cioè può essere immagino poi me lo confermerete che molti dei vostri allievi si trovino a usare il vocabolario per la prima volta su vostra su vostro vostra esortazione su vostro invito e allora qui vi ho dato una bella l'inizio in realtà di una bella definizione dell'enciclopedia dei ragazzi treccani bella perché perché è semplice strumento indispensabile per conoscere una lingua una disciplina e poi quindi definizione molto generica e poi va avanti dicendo che si tratta di un'opera che raccoglie e descrive solitamente in ordine alfabetico le parole o locuzioni di una lingua di un dialetto di una particolare disciplina o settore di un autore di un periodo dice che esistono diversi tipi di dizionario da subito quindi non bisogna pensare al dizionario come una realtà diciamo monolitica c'è il dizionario monolingue ma c'è anche quello bilingue il dizionario specialistico il dizionario enciclopedico e poi si fa subito riferimento allo sviluppo dell'informatica e quindi ai dizionari consultabili in cd e dvd anche se questi sono un po' datati perché la voce è del 2005 ma oggi come oggi la consultazione immediata del dizionario è in rete in realtà non attraverso un supporto informatico e ha creato il dizionario il dizionario multimediale una volta definito quindi arrivati diciamo magari discutendone in classe questa sarebbe penso un'unità didattica una lezione che andrebbe fatta in classe quindi una volta diciamo avvicinatisi a che cos'è un vocabolario in generale si possono presentare i vari tipi di vocabolari che esistono non perché debbano essere tutti consultati dai ragazzi ma semplicemente conosciuti per quel motivo che vi dicevo anche semplicemente teorico di far capire quanti avvicinamenti quanti approcci diversi ci sono al lessico di una lingua al vocabolario di una lingua allora chiaramente il primo vocabolario a cui si pensa è il vocabolario generale dell'uso quello che forse auspicabilmente molti di loro hanno a casa e che comunque sarà in classe o nella biblioteca della scuola è un dizionario monolingue poi si può introdurre subito il dizionario bilingue perché ovviamente facendo una o due lingue comunitarie loro hanno buona esperienza del dizionario bilingue quello si davvero ancora irrinunciabile anche se esistono i dizionari in rete ma mi sembra che i dizionari da una lingua all'altra abbiano una maggiore capacità di resistere nel tempo poi i dizionari specialistici qua appunto ho messo il dizionario giuridico si potrebbe prendere anche un dizionario dello slang giovanile così per far capire che diciamo ci sono dizionari che sono soltanto su alcuni ambiti specifici della lingua che non per forza il dizionario deve coprire tutta il lessico tutto il vocabolario della lingua e poi il dizionario etimologico visto che l'altra volta abbiamo parlato di etimologia ma magari introduciamolo anche perché spesso l'interesse per la lingua nei ragazzi nasce prima a livello storico etimologico e poi a livello come diremmo sincronico cioè la grammatica è sempre molto noiosa invece magari l'origine di una parola può incuriosire e quindi perché no avviarli anche alla consultazione del dizionario etimologico ma su questo non mi soffermo perché abbiamo ne abbiamo trattato ampiamente la volta scorsa il dizionario dei sinonimi anche questo è uno strumento un po' in crisi nel senso che già devo dire nei miei tempi mi ricordo che lo portavo dietro e poi non lo usavo mai nel senso che in genere quando uno sa che cosa vuole dire poi non ha grosse difficoltà a trovare il sinonimo magari più il contrario l'antonimo perché lì non è tanto facile però insomma semplicemente c'è questa pratica così risa di retorica della nostra cultura questa volta stasi veramente soltanto italiana dizionario di sinonimi fuori dall'Italia non è che siano molto diffusi è una realtà specifica italiana per cui il criterio appunto della variazio a cui ci hanno abituato fin da quando erano piccoli per cui a un certo punto vediamo che ci sono ripetiamo tre volte lo scrittore nel tema e quindi l'autore e poi rischiamo però di prendere fischi per i fiaschi e quindi non so il redattore per cercare una qualche variazione che forse non è neanche così necessaria qui vi ho riportato il RIF repertorio italiano di famiglie di parole perché sarà l'argomento della prossima lezione la lezione di gennaio del 21 gennaio del professor D'Achille e quindi insomma per invogliarvi a venire e fargli un po' di pubblicità ma anche perché effettivamente è uno strumento nuovo e sono curioso di sapere ne parlavamo prima anche con Roberta Rigo quali potrebbero essere le sue applicazioni a quali applicazioni hanno pensato i due autori in classe e poi anche qui non qui anzi sicuramente non perché se ne richieda la consultazione all'Uni delle Medie però può essere utile sapere che esistono anche dizionari in più volumi anche in molti volumi come il grande dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia che sono dizionari storici cioè dizionari che contengono almeno mirano a contenere tutto il lessico dell'italiano dalle origini fino a oggi e soprattutto nelle sue le parole vengono registrate nelle loro varie evoluzioni formali e soprattutto semantiche di significato e sempre con esempi di autori questo è una tipologia certamente non da maneggiare alle medie però può essere utile sapere che i dizionari possono essere anche opere molto molto estese molto vaste con una grandissima fonte di una grandissima messe di informazioni e perché no presentare anche dizionari dialettali il dizionario non deve essere avvertito come uno strumento che registra soltanto appunto la lingua alla quale noi non possiamo accedere questo è un po' il rischio di quando si parla di lessico cioè far sentire gli allievi inadeguati ma dire no guardate c'è anche ci sono tutti gli usi linguistici allo stesso scopo potrebbe servire un dizionario gergale adesso secondo le vostre scuole ci saranno classi in cui c'è un buon numero di alunni dialettofoni classi invece in cui non ce n'è nessuno è una rarità parlare in dialetto però sicuramente almeno il gergo giovanile quello sì o comunque un certo dialetto che si usa in maniera gergale sì e allora appunto andare a vedere anche strumenti di questo tipo a questo punto si può partire con la il commento a una voce di dizionario di vocabolario si va a leggere insieme e no scusate ho dimenticato una cosa sì prima ancora di andare a vedere i commentari le diverse voci proprio per il motivo che abbiamo detto finora e cioè il fatto che i dizionari oggi come oggi sono fondamentalmente online e soprattutto che è normale consultarli anche diciamo per i ragazzi ricorrere a internet magari anche con il telefonino non diciamo non direttamente al computer è importante dir loro che cosa c'è in rete e quali sono gli strumenti realmente affidabili perché il grosso problema è che uno cerca non so flebile significato e magari come prima cosa gli viene la voce di google o di wikipedia che diciamo per la quale siamo nelle mani del compilatore cioè può essere stata una persona espertissima che dunque l'ha fatta molto bene può essere stata una persona invece che l'ha fatta male così funziona l'enciclopedia online come sapete allora è importante che queste fonti lessicografiche consultate siano però diciamo di qualità e allora io indicherei quantomeno tre fonti lessicografiche la prima è proprio il vocabolario treccani che altro non è se non lo storico vocabolario della lingua italiana diretto da Aldo Duro uno dei pilastri della lessicografia italiana del secondo novecento prima edizione 1986 se non sbaglio che è stato riversato interamente online e che è un vocabolario di non facile consultazione perché è un vocabolario diciamo quasi enciclopedico con molti elementi diciamo del vocabolario enciclopedico per esempio registra molti tecnicismi sono registrate anche molte voci letterarie aulico significati anche letterari ci sono sempre esempi d'autore dunque effettivamente è un dizionario molto ricco ma anche complesso più snello più moderno se vogliamo è sicuramente il nuovo De Mauro che anche se è liberamente consultabile dalla pagina dell'internazionale che appunto ha un taglio più sincronico dunque è meno interessato a voci arcaiche o letterarie e molto attento sempre all'uso una delle caratteristiche del nuovo dizionario di De Mauro e dei dizionari di De Mauro in genere perché questo poi è la riduzione del grande dizionario italiano dell'uso il gradit in molteplici volumi la caratteristica di De Mauro è sempre appunto quella dei dizionari di De Mauro è sempre quella di specificare qual è l'uso di una parola se si tratta di una parola di uso comune se si tratta di una parola usata solo nei linguaggi tecnico-specialistici di una parola ormai a basso uso eccetera eccetera e poi soprattutto per le informazioni grammaticali il DISC il Sabatini Coletti che c'è appunto è liberamente disponibile tramite il sito del Corriere della Sera dico soprattutto per informazioni grammaticali perché come forse alcuni alcuni di voi sanno o quanto e quantomeno fanno seguono nel programma di grammatica il modello valenziale il dizionario di Sabatini Coletti è l'unico a riportare sistematicamente per i verbi le valenze e dunque può essere un valido ausilio anche per la lezione di grammatica bene dicevo a questo punto fatta questa panoramica generale si può iniziare ad analizzare come sono fatte le voci del vocabolario io qui come esempio ho preso quelle del vocabolario Treccani anzi no qualche volta quelle del Treccani poi lo confrontate con altre voci però il vocabolario che ho usato come riferimento è quello Treccani perché mi sembrava appunto il più completo anche perché è il più complesso e dunque forse merita maggiormente una spiegazione e allora può cominciare col dire che appunto alla all'emma quindi alla voce messa all'emma segue subito la marca grammaticale agg vuol dire che è un aggettivo e questo può servire a un ripasso di grammatica sulle parti del discorso in che senso è un aggettivo come possiamo capire che si tratta di un aggettivo beh basta vedere gli esempi che seguono un flebile sussurro musica flebile flebile melodia capiamo che non può che trattarsi anche se non sappiamo il significato della parola non può che trattarsi di un aggettivo perché segue o precede un nome e chiaramente attribuendogli delle qualità poi qui abbiamo anche l'etimologia può essere utile fare questa operazione io ho scelto flebile proprio perché abbiamo letto prima la scheda di seri anni dunque si potrebbe prima leggere insieme a livello discorsivo la scheda di seri anni o prepararne una simile su un'altra parola e poi andare a vedere come queste informazioni sono codificate in maniera più sintetica e schematica all'interno di una voce di dizionale quindi la definizione qui vi ho messo solo una parte lacrimevole e lamentoso si dice soprattutto di voce o suono che sa di pianto che invita al pianto più semplicemente lieve e mestamente dolce e seguono gli esempi che in questo caso sono esempi d'autore in questo dizionario e quindi tasso marino leopardi giusti e poi abbiamo i derivati in questo caso all'avverbio flebilmente con gli esempi che però in questo caso non sono esempi d'autore ma sono diciamo exempla ficta ma insomma dell'uso comune parlare flebilmente piangere flebilmente si può fare il confronto con un altro vocabolario per vedere qual è la diversa impostazione anche questo è non è che si può pretendere poi che i ragazzi si ricordino esattamente e ricorrano un vocabolario oppure un altro secondo le proprie esigenze questo è chiedere loro troppo però fargli vedere che ci sono diversi modi di dire cose simili ma gerarchizzando in maniera diversa le informazioni questo sì che può essere può essere utile per esempio vedete la struttura del nuovo De Mauro è molto più snella contiene un elemento che il Treccani non aveva cioè la sillabazione della parola flebile e anche su questo potremmo avere da ridire nel senso che la sillabazione che dovrebbe essere un elemento più innovativo del nuovo De Mauro è in realtà forse ancora più obsoleta ormai dei vocabolari visto che diciamo quando si inizia poi a scrivere al computer la sillabazione la fa lui e in genere comunque tende a non andare a capo se non mandiamo la funzione quindi l'andare a capo ormai è qualcosa vintage d'antan diciamo cioè il sillabare la parola poi la marca grammaticale l'etimologia a cui comunque il dizionario di De Mauro che pure si propone di essere pienamente sincronico non rinuncia e un'altra piccola contraddizione se vogliamo nel nuovo De Mauro è la menzione di fievole che è chiaramente una voce obsoleta invece è un esito diciamo antico che resiste soltanto nel derivato affievolire ma per il resto fievole come aggettivo non si usa più è dell'italiano antico e che però De Mauro non si sente di scartare abbandonare del tutto e poi molto rilevanti sono le marche d'uso CO sta per comune BU sta per basso uso cioè che cosa si dice si dice che in questo certamente la struttura del De Mauro è preferibile a quella del Treccani Treccani partiva dal significato etimologico quindi diceva lamentoso che invita al pianto e poi lieve appena udibile sommesso De Mauro dice no in realtà oggi come oggi flebile anzitutto si usa col valore di lieve sommesso basso di tono e meno usato è il significato originario cioè quello di lamentoso triste quindi in questo si ha un modo di procedere ben diverso e si può anche notare che i due significati sono tenuti distinti da De Mauro mentre Treccani reputava uno diciamo l'evoluzione dell'altro il che è vero dal punto di vista storico ma sincronicamente effettivamente si tratta di due cose diverse un conto è dire che uno parla a voce bassa un conto è dire che parla con una voce lamentevole lamentosa bene poi le definizioni con gli esempi che però non sono esempi d'autore facciamo un altro esempio questo l'ho scelto perché per vari motivi intanto perché si tratta di un aggettivo che almeno in alcune accezioni è molto comune non è flebile che è chiaramente diciamo fuori dall'orizzonte d'uso comunque dei ragazzi virale invece è qualcosa che loro conoscono però perché nell'accezione più recente che ha a che fare con la propagazione delle informazioni in rete allora che cosa vuol dire virale aggettivo derivato di virus primo significato quello medico medicina di virus causato da virus e quindi abbiamo un'infezione virale malattie virali epatite virale secondo significato che è proprio di un virus informatico quindi con una metafora per cui il virus diventa diciamo un software informatico che danneggia i computer e quindi virus viene utilizzato appunto con un significato diverso e allora per estensione che si diffonde in modo rapido e capillare esattamente come i virus informatici e quindi su un modello dell'inglese viral e quindi diffusione virale marketing virale pubblicità virale video virale questo tipo di informazioni che si recuperano nel dizionario può poi essere transcodificato per verificare quanto i ragazzi siano in grado di estrapolare prendere informazioni da un assetto così schematico e un esercizio secondo me diciamo può essere simpatico è quello di trasformare una voce simile in uno schema radiale mettendo la parola al centro virale e collegandola con varie frecce a delle parole intorno a modi satelliti con cui virale si può legare ma acquistando dei significati ogni volta diversi allora virale che può essere secondo quello che abbiamo detto il primo significato era quello medico di virus casato da virus e quindi l'infezione virale si può abbinare anche a delle immagini visto che siamo abituati alla multimedialità il secondo significato è quello informatico quindi un software virale software che funge da virus e poi abbiamo la diciamo la gran parte dei sostantivi con cui usiamo virale oggi che riguardano appunto prodotti che si diffondono molto velocemente in rete e allora un video virale oppure una challenge virale eccetera in questa maniera anche dal punto di vista mnemonico è più facile probabilmente per l'allievo avere una acquisire una competenza delle diverse accezioni dell'aggettivo può essere utile anche lavorare sui verbi verbi hanno come vi dicevo già da prima un elemento fondamentale cioè quello che vengono subito qualificati in qualsiasi vocabolario come transitivi o intransitivi e quindi questo è una bella riflessione che si fa dal punto di vista grammaticale chiedersi se un verbo come ricaricare sia transitivo o intransitivo che cosa vuol dire transitivo transitivo vuol dire appunto che richiede normalmente un complemento oggetto o se si fa grammatica valenziale appunto che richiede un secondo argomento diverso dal primo cioè dal soggetto e che sia aproposizionale non sia introdotto da una preposizione e quindi consente una prima riflessione di tipo grammaticale poi questa voce in particolare è interessante perché non solo abbiamo due significati diversi il significato 1 e il significato 2 che è il significato figurare cioè ricaricare come dare nuova forza ed energia fisica e psichica ma il significato 1 è distinto in 1A e 1B ricaricare come caricare di nuovo di armi da fuoco quindi ricaricare la pistola e il fucile oppure ricaricare l'orologio la sveglia oppure ricaricare la pipa l'accendino ma poi B procurarsi un credito per l'uso di un particolare servizio come il telefono cellulare quindi la ricarica diciamo del cellulare ricaricare il telefono che è considerato appartenente allo stesso significato 1 cioè dare nuova carica un'altra diciamo una micro accezione all'interno del macro significato di dare nuova carica e quindi appunto si può riflettere sull'articolazione sulla struttura della voce anche qua la si può no scusate avevo riportato anche la voce in questo del disc perché trattandosi di un verbo transitivo abbiamo una può essere molto utile per diciamo vedere come si codifica la transitività nella grammatica valenziale se si usa se si applica quel modello e quindi soggetto verbo argomento ma può avere anche diciamo ricaricare può essere anche usato come verbo non soltanto bi-argomentale ma anche tri-argomentale quindi caricare di nuovo qualcosa su un mezzo di trasporto se io dico ricarico questo ecco ricarico le casse sul furgone certo devo dire anche dove le carico in realtà secondo me qua non sono molto d'accordo sulla distinzione semantica perché secondo me ricaricare è molto raro nel significato di caricare di nuovo eh ho scaricato due volte il frigorifero o lo ricarico sul camion sì certo non è impossibile però non è la prima cosa a cui pensiamo quando c'è il verbo ricaricare invece tante accezioni non ci sono però si parla di ricaricarsi come riflessivo insomma dunque ricaricarsi questo è ancora peggio forse sottoporsi nuovamente a un peso eccessivo cioè si è ricaricato di lavoro ma sì certo ma insomma non lo metterei addirittura come accezione a sé all'interno della voce quindi può esserci anche un giudizio critico forse è un po' presto per i ragazzi delle medie ma certamente quello che c'è è che si può riflettere su che cosa voglia dire verbo transitivo e a quel punto di nuovo tradurre queste diverse accezioni in uno schema allora ricaricare l'orologio ricaricare il telefono qui in realtà nel significato non che dava il tre cani cioè di ricaricarlo con il credito ma di ricaricarlo con ricaricare la batteria ricaricare le energie dunque figurato e anche ricaricare se stessi ricaricarsi va bene come come riflessivo uso dell'accento sul se diciamo di io sono ho studiato con Luca Serianni e lui ha detto insomma alla fine non solo si può ma ci costringeva a metterlo perché è una sua piccola battaglia che sta conducendo e non so se poi abbia vinto sicuramente diciamo su sua influenza vedo che sempre di più è licenziato ma insomma possiamo scriverlo anche senza se dà fastidio non importa qua non era non era quello il punto a questo punto si può passare a degli esercizi di scusate ecco manipolazione del testo la mia idea insomma chi viene qui da più anni diciamo forse ormai l'ha capito è che per impadronirsi veramente per capire veramente un testo sia sempre necessario lavorarci sopra con un minimo di attività sul testo non semplicemente recepirlo in maniera passiva quella è la prova migliore secondo me per vedere se si è capito veramente come funziona il meccanismo interno a quel testo e allora si può costruire per esempio un banale esercizio di close quindi togliendo delle parti alla definizione ovviamente bisogna stare molto attenti su che cosa si toglie perché può trattarsi di parole che i ragazzi non conoscono anzi io sono andato a cercare non parole del lessico fondamentale e quindi bisogna vedere che cosa si può togliere però ecco una prima cosa che si può togliere se si ha una buona competenza di analisi grammaticale e la si dovrebbe avere dopo il primo anno diciamo si capisce che cosa sono le parti del discorso se è la marca grammaticale se io dico tacito puoi non sapere che cosa vuol dire tacito ma dagli esempi si capisce tutti stavano taciti questi esempi adesso non avevo visto sono molto letterari ma si può prendere magari tacito accordo eccetera si capisce appunto che ha la funzione di aggettivo e quindi quella può essere integrata dal si può chiedere allo studente anche come esercizio di grammatica di integrare la marca grammaticale ma anche nella definizione se io dico che tacito vuol dire che tace che sta senza quale parola dovrò inserire se uno tace sta senza parlare è chiaro qua non ci sono grandi possibilità sinonimo letterario più elevato di silenzioso mi sembra abbastanza facile anche se uno non conosce la parola tacito sa che cosa deve integrare e ci scommetterei che se gli si fa fare un esercizio del genere poi alla fine si ricorderà molto meglio di che cosa vuol dire tacito che semplicemente se gliel'abbiamo fatta leggere la voce memorizzandole e basta oppure ardere ecco ardere qua chiaramente è difficile perché ardere è un verbo dunque bisogna decidere se è transitivo o intransitivo e ardere in italiano è tanto transitivo quanto intransitivo perché se io ardo la legna il verbo è transitivo ma se la legna arde è intransitiva quindi non è proprio la cosa più facile del mondo però io qui vi ho messo soltanto gli esempi dell'uso transitivo quindi si può anche mettere solo una parte della voce e considerarlo in questo caso un verbo transitivo oppure semplicemente si può mettere tr questa è proprio la cosa più facile e degli di integrare la v di verbo cioè che cos'è transitivo non può essere un avverbio non può essere un sostantivo deve essere per forza un verbo qua si decide secondo il livello della classe ardere e poi nella definizione ecco uno transitivo per mezzo del fuoco arsero le case dei loro amici ma che cosa potrà essere per mezzo del fuoco che cosa si può fare per mezzo del fuoco col fuoco non si può fare altro che bruciare non mi sembra che ci siano altre possibilità dunque secondo me se si sceglie bene il close non c'è bisogno di richiedere al ragazzo all'allievo o all'allieva che conosca la voce di partenza se la può ricavare con anche un piccolo esercizio di enigmistico se vogliamo che lo aiuterà anche a ricordare meglio la voce che vogliamo che conosca e al limite si può chiedere anche di integrare soltanto gli esempi che comunque non è un'operazione tanto facile per esempio diafano in fisica di corpo parzialmente trasparente tale che guardando un oggetto attraverso di esso si vedano soltanto i contorni con il significato più generico fuori dell'uso tecnico trasparente terzo limpido trasparente terzo limpido che cosa può essere trasparente terzo limpido qua vedete il gioco non è tanto su capire perché possiamo dare per scontato che diafano non lo saprà nessuno lo saprà forse soltanto uno che cosa vuol dire ma il problema è che se è sinonimo di trasparente terzo limpido che cosa può essere trasparente terzo limpido un vetro vetro diafano oppure il cielo terzo il cielo diafano l'aria l'atmosfera diafana oppure tenue pallido riferita a luce o colore beh colore basta che non dicano nero diafano o rosso diafano perché in genere non sono colori accesi o colori scuri che possono essere diafano può essere un bianco diafano un rosa diafano un azzurro diafano ma devono essere colori tenui perché possano arrivare a quel grado di trasparenza quasi trasparenza che richiede l'aggettivo in senso figurato il letterario è riferito alla persona a parte di essa esile di aspetto delicato e di colorito pallido quasi alabastrino e allora mani diafano e volto diafano ragazza diafana volendo ma non omone diafano questo no perché se uno è un omone non può essere diafano quindi anche semplicemente con piccoli esempi si può stimolare la creatività dei ragazzi e anche vedere misurare anche quanto hanno capito del significato della parola l'ultimo esercizio che proponiamo di fare questo è quello più audace di tutti è quello di arrivare a redigere delle voci delle prove di voci di vocabolario e qua mi sono chiesto molto su che cosa come farli lavorare purtroppo non sono riuscito a fare simulazioni l'unica cosa che sono riuscito a fare è tramite mia moglie che insegna a scuola appunto chiedere ai ragazzi però insegna in una scuola diciamo del contato di Roma chiedere quali erano voci che loro percepivano come più gergali più proprie del loro lessico giovanile alcune le conoscevo altre ovviamente però no la prima cosa che mi dice ah dice guarda Eschere che cos'è Eschere cioè Eschere va non so se qualcuno di voi l'ha sentito circola Eschere ecco Eschere si usa soprattutto nella musica trap dice è una deriva da let's get it e si usa nelle canzoni ma ormai anche come interiezione insomma di esaltazione di saluto Eschere Allora ho pensato appunto che questa potesse essere una buona applicazione del metodo lessicografico cioè una voce del genere sarà qualcosa che ancora ovviamente nei vocabolari non c'è che nessuno conosce solo i ragazzi in realtà poi sono andato a cercare su internet ne parlano tutti no Eschere che vuol dire questo termine una parola usata principalmente dai giovani dal significato multiplo questa è da una rivista non mi ricordo forse donna moderna una parola molto amata dai giovani che già così qualifica la distanza di chi ne parla la parola amata dai giovani credo che gli stessi giovani diciamo sarebbero nauseati da questa definizione usata quasi sempre in momenti di gaudio detto così sembra la domenica ammessa in realtà invece è un il termine appunto legato a droga soldi sesso insomma i testi di queste canzoni sono praticamente illegibili inutilizzabili a scuola però magari l'espressione ha un uso molto più diciamo innocuo quando viene usata dai nostri ragazzi il termine ha un'accezione piuttosto contemporanea e felice quindi la domanda è una sola che vuol dire schere o anche schetit si tratta di una suggestione vabbè la terminologia chiaramente non è tecnica della frase let's get it ovvero facciamolo prendiamolo ecco finalmente svelato il significato c'era arrivata anche la crusca però io non l'avevo visto già la crusca ultimamente brucia le tappe è petaloso esce il cane anche schere subito esclamazione usata come richiamo saluto tra amici o per esprimere consenso riduzione della locuzione inglese let's get it ovvero facciamolo andiamoci a prendere allora ho provato a trasformare tutto questo in una voce di dizionario diciamo simile a quelle che abbiamo visto finora eschere anche schetit interiezione una marca grammaticale chiaramente quella di interiezione la etimologia dalla locuzione inglese let's get it andiamoci a prendere facciamolo espressione di giubilo usata con funzione di saluto o richiamo nel gergo dei giovani in particolare tra i cantanti e i fan della musica trap e ci ho messo anche l'esempio d'autore di cui sono molto fiero perché soprattutto sono riuscito a trovare un verso di una canzone trap che non contenesse turpiloquio riferimenti alla droga al sesso è l'unico balli il tip tap quando faccio una rima ma finché è così eschere della dark polo gang bene questo può essere un modello allora nel vengo a presentare il laboratorio perché ho parlato fin troppo in questo in questo in questo laboratorio ma anche lezione come avete visto un po' ibrida in cui si è partito dall'uso del del vocabolario ma per poi parlare di anche di arricchimento del lessico in generale e di creatività posso chiedere c'è una copia in più del perché non me la ritrovo ne sono dimenticata grazie volevo illustrare il laboratorio prima della pausa poi ovviamente ci sono le domande anche su quello che ho detto se volete ma nel laboratorio vedete che ci sono tre esercizi quattro esercizi scusate di tipologie molto simili a quelle che vi ho illustrato il primo è un close test su voci rimaneggiate per la verità del vocabolario treccani cioè si chiede ai ragazzi agli allievi di integrare la marca grammaticale o parzialmente o del tutto e poi di integrare alcune voci chiave particolarmente salienti nella definizione voci che dovrebbero essere ricostruibili quindi intuibili non tanto dalla semantica della parola perché possiamo pensare che magari parole come latrare fetido umettare non siano note diciamo ai ragazzi non siano della propria competenza né attiva ma nemmeno passiva in alcuni casi ma che dovrebbero essere ricavabili anche semplicemente dalla definizione per esempio da un sinonimo che figura subito dopo e quello sì che dovrebbe essere più alla loro portata secondo esercizio è quello dello schema questo andrebbe fatto dopo la consultazione del vocabolario poiché siamo qui e siamo tutte persone adulte e istruite diciamo possiamo farlo senza dover consultare il vocabolario e cioè quello di diciamo inserire lì dove ci sono dei puntini parole che si combinano normalmente si associano a quel verbo o a quell'aggettivo in forma in genere di sostantivo complemento oggetto del verbo e diciamo sostantivo a cui è attribuito a cui si riferisce l'attributo l'aggettivo possibilmente cercando ogni volta di attribuire alla parola un sostantivo o diciamo un sostantivo che faccia sì che assuma un'accezione diversa quindi con un significato diverso per dire se abbiamo assumere non assumere un impegno e assumere un obbligo che sono la stessa accezione ma assumere un impegno e assumere un dipendente questo sì che è un significato diverso questo dovrebbe essere l'esercizio poi non per tutte le parole è facile trovare quattro accezioni completamente diverse quindi ci si può sbizzare e non per tutte ne vanno trovate per forza quattro io ne ho messe quattro per tutte diciamo strutturando dalla stessa maniera ma non necessariamente devono essere sempre quattro poi c'è un esercizio sul dizionario dei sinonimi al terzo ma che in realtà non è tanto sul dizionario dei sinonimi quanto sulla sinonimia essa stessa e sul lessico cioè si danno delle voci di dizionario dei sinonimi dove c'è un intruso c'è una parola che non non c'entra con gli altri significati e dovrebbe essere un invito ai ragazzi ad andare a cercare sul vocabolario perché si suppone che molte di queste parole non siano note agli alunni ma in questa maniera loro usando il vocabolario possono trovare l'intruso quindi devono capire la definizione e saperla usare per risolvere il problema l'ultimo esercizio è quello più divertente forse ma anche più complicato cioè quello di redigere delle voci di vocabolario a partire da parole gergali del lessico giovanile le parole sono penso più o meno tutte note ma insomma andiamola a vedere insieme un edub conoscete questo gesto di esultanza che è quello fatto da calciatori o anche vincitori di videogiochi eccetera che si ha per cui si mette diciamo mai visto vabbè chi non lo conosce lo può saltare l'altro è frenzonare di cui si parlava anche l'altra volta questo sì ormai ben acclimatato cioè mettere qualcuno nella friend zone ossia nella zona amici insomma in qualche maniera costringerlo a non avere una relazione sentimentale ma solo di amicizia una relazione sbilanciata per cui c'è uno dei due che dei due soggetti che vorrebbe appunto una relazione di tipo sentimentale e l'altra invece che si rifiuta e quindi dice siamo solo amici quindi questo frenzonare Nabbo o Newbo queste sono tutte attinte dalla viva voce dei ragazzi è quello che non sa giocare ai videogiochi è l'imbranato diciamo ai videogiochi perché dall'inglese Newby quindi colui che è appena arrivato è il novellino e dunque che diciamo non ha esperienza se si usa con i videogiochi ma anche con altro spoilerare questo diciamo lo conosciamo tutti quindi non c'è neanche bisogno che lo definisca e la trap che è la grande moda diciamo di questi anni ora se Dub o Nabbo anche io l'ho imparato per la prima volta la Dub la conoscevo però non li si conosce abbastanza è inutile provare a definirli però quello che riuscite a fare quantomeno con che cos'era spoilerare o frenzonare questo forse ci si può provare e facciamo la solita pausa di una decina di minuti sono le 4 e 5 quindi riprendiamo alle 4 e un quarto con qualche domanda e poi abbiamo così almeno una mezz'oretta diciamo per il laboratorio grazie a tutti